Siracusa verso l'aggiornamento del piano urbano della mobilità sostenibile. Il Comune di Siracusa ha avviato le attività che porteranno all'aggiornamento del piano urbano della mobilità sostenibile, strumento di programmazione a disposizione delle città che mira a soddisfare i bisogni di mobilità delle persone nel medio-lungo periodo. Si tratta di un progetto complesso articolato in una pluralità di attività che rinnoverà gli strumenti della pianificazione di settore definendo la mobilità del futuro in città. La Commissione europea ha identificato i piani come lo strumento cardine nella transizione verso la mobilità a basso impatto che pone al centro il cittadino e ripensa le città e le sue dinamiche affinché siano più accessibili, inclusive e prospere. Il piano è lo strumento di programmazione che consenterà di disegnare una Siracusa più vivibile e moderna migliorando la viabilità, i trasporti, la gestione dell'isola pedonale e del sistema di sosta nel territorio urbano. L'attuale sfida impone lo sviluppo di modelli innovativi e sostenibili di mobilità da integrare agli strumenti di pianificazione capaci di tutelare l'ambiente, diminuire il fabbisogno energetico e migliorare la qualità della vita dei cittadini e conciliando le esigenze di mobilità del territorio con un modello di trasporto integrato, condiviso e sostenibile.